Venerdì 1 dicembre Arezzo ospiterà l'Assemblea Interregionale della CISL, due regioni Toscana e Umbria. Per fare cosa? Stiamo facendo queste assemblee in tutta Italia. Toscana e Umbria insieme ai delegati delle aziende più rappresentative, insieme a tutti i dirigenti dei territori della Toscana e dell'Umbria, per parlare di lavoro e previdenza. Abbiamo fatto una trattativa con il Governo che ha portato alcuni risultati. Vogliamo valorizzare questi risultati e mettere all'attenzione dei lavoratori e del Paese anche quelli che sono i nostri futuri obiettivi. Noi domani con questa manifestazione di Arezzo confermiamo tutto il lavoro fatto in un anno e mezzo di trattative con il Governo. L'iniziativa si chiama Fatti passo dopo passo perché passo dopo passo siamo convinti di arrivare a portare giustizia ed equità nel nostro Paese. Quali sono i punti di forza sui quali la CISL vuol fare leva? Noi soprattutto l'aver costruito un impegno da parte del Governo per dividere la previdenza dall'assistenza e avere un tavolo che continui a parlare di come stemperare la legge Fornero, per noi questo è un elemento essenziale, anche per tenere insieme le nuove e le vecchie generazioni. A qualche lavoratore è stata spostata l'asticella della pensione in un giorno per cinque anni, ma per i giovani questa asticella potrà essere spostata anche di dieci anni. Questo ci porta ad avere una riforma delle pensioni che in nessun altro Paese d'Europa è così severa. Quindi rivedere quella legge è fondamentale. Siamo stati al tavolo e abbiamo costruito degli impegni sul futuro da parte del Governo. La peggiore condizione per il sindacato è essere fuori dal tavolo, come è avvenuto quando abbiamo subito la legge Fornero e tutte le conseguenze che ci sono state per molti lavoratori. Per la CISL di Arezzo è un riconoscimento importante perché ospita questa assemblea che fa parte poi del circuito nazionale. Quindi quante persone prevedete che possano raggiungere la nostra città? Noi le previsioni sono su 500 persone. Poi chiaramente andrà visto perché anche il tempo vedo che non è che prometta granché. Però abbiamo preso una struttura lì a trotendere via La Mendoa, tra l'altro una struttura anche poco sfruttata per la realtà retina, quindi senza difficoltà di parcheggi e di raggiungimento. Domani mattina alle 9 e mezzo noi saremo lì ad aspettare, ad ospitare i nostri corregionali toscani e umbri proprio per manifestare questa nostra volontà e voglia di far sindacati e di costruire un futuro migliore per il nostro Paese.